Ciao a tutti ragazzi e ben giocati in questo video su Andraslayer oggi ragazzi siamo per un nuovo video su GTA si ragazzi siamo su GTA ok oggi ragazzi siamo qui su GTA per vedere se potete portare questo contenuto anzi perchè vuoi vedere se l'alga la scuola c ok ok voglio venire se no magari ragazzi mi fa andare obbligatorio sto giocando ditemi ragazzi nei commenti se volete che porto GTA a me piace molto questo gioco però voglio sapere la vostra opinione e prima devo vedere anche se l'alga sto gioco perchè se l'alga un punto a registrare non posso benvenuti al Diamond se volete venire e tenere una buona che ottenere accessi a tutte le facility in resort benvenuti benvenuti e adesso e 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 No, 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 no. Dimmi che posso fare il card, dimmi che posso fare No ovviamente no, un altro e un altro e un altro grazie Mi spusci signore, mi spusci Salve, no salve, per passare dove cazzo E ci sono questi tizi con un vettore E io ne ho parlato di più Salve signore Non vengli prendi la macchina per me Sì, perché non ho fatto un ritorno, ma sono molto così stupido, ma non sono andato anche le ricette. Ma sono andato? Perché sono andato? Perché vuole cercare un ufficio? Ok, vuole solo una mia piccola cosa, possiamo andare a casa. Non posso andare a casa, ma non è no? Ciao